grande riccardo ce l'abbiamo fatta a fare il cambio d'abito altre giacche altro argomento anche questo bello spinoso perché c'è un po di confusione intanto allora capiamo qual è la differenza e quali sono i tessuti waterproof e quali idrorepellenti come qual è la differenza sostanzialmente allora è ottima domanda tra l'altro non è non è semplice trovare chi va perché sto guadagnando tempo sicuramente guarda c'è una differenza importante partiamo dall'idro repellenza l'idrorepellenza è un trattamento che viene fatto nella parte esterna del tessuto ok quindi nella parte che va a porsi nell'esterno ed è un trattamento di solito a base di teflon in passato erano siliconici però poi hanno avuto hanno conseguenze ambientali molto importanti quindi siamo su trattamento al teflon che permette alle all'acqua di scorrere via chiaramente essendo un trattamento esterno ha i suoi limiti cioè tutto quello che sono cuciture punto di ingresso ma anche lo stesso trattamento dopo un po quindi dopo i primi minuti di pioggia che possono essere pochi minuti fino a 5 6 minuti tende a avere una penetrazione da parte dell'acqua però in questo caso qualunque di queste giacche qui ha un trattamento idrorepellente se tu gli buttassi adesso una secchiata d'acqua su qualunque di questa non è tanto la quantità perché scivolerebbe via perché al primo impatto sicuramente l'acqua scivola via questo aiuta anche moltissimo il capo ad asciugarsi mentre andiamo invece un trattamento waterproof del tessuto quindi stiamo stiamo sconfinando nei tessuti laminati quindi tessuti che sono la parola se c'è composti da lamine diverse è un trattamento ben diverso cioè è un trattamento che viene nella parte chiaramente verso l'interno del tessuto abbiamo una parte esterna che può essere poliestere e nylon nei nostri capi utilizziamo un tessuto che abbiamo ideato noi che si chiama Duratec 8 e questo tessuto è composto da nylon esterno ad alta tenacità e da una membrana quindi una... che è questa sostanzialmente giusto? esatto esatto questa membrana che viene posta in parallelo al tessuto nel mezzo viene spalmato spalmato un altro materiale che si chiama di solito hot melt è una specie di colla queste passano per dei cilindri riscaldati solito sono cilindri ad olio e questi due tessuti vengono fusi insieme non è più non si parla più di due tessuti separati perché otteniamo un singolo materiale una volta raffreddato questo materiale il processo è inscindibile tu non avrai più questi due materiali diversi ma nascono come due materiali diversi il secondo essendo una membrana chiaramente permetterà la traspirazione e al contempo permetterà anche l'imprimibilità del tessuto quindi riccardo immaginandola è un po' una sorta di rotativa come quando si stampavano i giornali perché ormai sempre di meno purtroppo però diciamo che il tessuto i due tessuti tre passano all'interno di questi megacilindri che li fanno fondere fanno diventare un unico tessuto è così un po si si esatto questi cilindri vengono chiamate normalmente calandre poi io l'ho semplificato molto il processo per renderlo abbastanza però possono esserci più e più passaggi cioè fusione raffreddamento fusione raffreddamento per avere un'aderenza totale del tessuto quindi possono essere addirittura file lunghe decine se non 50 60 metri di queste calandre che vanno poi a creare questi tessuti per farti capire che complessi che sono i tessuti laminati che poi vengono utilizzati in capi tecnici cioè non è una cosa che si può facilmente trovare in circolazione senti però un'altra domanda ovviamente noi alla vista adesso vediamo il tessuto laminato così possiamo vederlo anche in altri modi o può essere coperto da una fodera come come possiamo anche vederlo come possiamo renderlo altrimenti ma un tessuto laminato può essere ricoperto da una fodera si trova spesso quando il tessuto va a contatto direttamente con la pelle si preferisce avere una fodera questa retina che può essere nero di altri colori che aiuta lo scivolamento del capo altrimenti tu quando vai a sudare tipo appoggi direttamente a un tessuto sono tessuti sintetici quindi ovviamente tenderanno ad attaccarsi alla pelle quindi si mette questo fodera che permette lo scivolamento anche in caso di sudore anche nelle stesse tute in pelle tu ne sei un utilizzatore sai che dentro c'è la pelle ma non è a contatto col corpo c'è oppure i più esperti utilizzano un sottotuta il principio è lo stesso qui non lo vediamo ricoperto perché ovviamente è in una delle ventilazioni però buono che hai sollevato questa parte perché qui notiamo appunto quello di cui si parlava prima ovvero una cucitura che viene nastrata grazie a questo trattamento specifico per le cuciture per cui dopo questo trattamento la cucitura sarà perfettamente stagna perché quando noi abbiamo materiale certo impermeabile andiamo a cucirci sopra non sono altro che micro fori la cucitura da cui potrebbe entrare l'acqua facendo questo trattamento questa nastratura sopra la cucitura andiamo a chiudere quei micro fori ea ripristinare l'impermeabilità del capo questa è essenziale su un capo laminato quindi permettimi c'è una nastratura diciamo un sigillare delle cuciture del tessuto esterno perché da lì entra acqua ma poi ci sono anche delle altre nastrature del tessuto che viene abbinato al tessuto esterno perché anche lì potrebbe esserci un eventuale passaggio sostanzialmente questo il principio per semplificare ogni cucitura deve essere nastrata perché ogni cucitura è un buco che fai nel tessuto per cui un ingresso possibile per l'acqua anche lì ovviamente fare un capo laminato richiede molta attenzione per non dimenticarsi incroci punti ed è per questo che mi chiamava il cacciatore di il cacciatore di tempeste perché andava a vedere se avevano lavorato bene esatto andava a qualcuno deve pur toccare questo passami termine piacere di andare a provare sul campo il prodotti e io sono sicuramente il primo test della mia azienda è importante perché perché tu puoi fare a ragionamento tutto giusto ma magari qualcosa va storto quindi se non provi su te stesso o su persone a te molto vicino noi abbiamo 4 5 tester incaricati dei test dei prototipi loro ti daranno direttamente il feedback prima di arrivare poi al definitivo perché non lo sai mai cioè qui sono stati necessari almeno 800 chilometri di tempeste e purtroppo negli anni passati acqua ce n'era poca per quindi toccava vedevate chiudere l'autolavaggio in moto e cercando di bagnarsi senti ma a parte gli scherzi c'è stato dai diamo anche una un dietro le quinte c'è stato un progetto un prodotto magari o anche questo non lo so che l'avete appunto come hai detto te analizzato studiato nel dettaglio poi sei uscito l'hai provato e si è richiesta una modifica che adesso mi devi svelare senta dirmi qual è il prodotto il capo dai e va beh sì dai c'è stato questa non era preparata infatti è titubante però è il bello della diretta allora in verità dietro le quinte ce ne sarebbe per ogni capo perché poi quando lo sviluppi lo vai visto che abbiamo parlato di questo guarda fatalità sviluppare delle ventilazioni sui cappi laminati è estremamente complicato complicato in questo caso qui per dirti è stato sviluppato questo sistema di protezione dall'acqua che non si basa solamente sulle zip che non sono mai impermeabili ma si basa su questa struttura che c'è sotto che impedisce l'entrata dell'acqua e pensavamo fosse bastante in verità abbiamo scoperto che una minima parte riusciva a risalire per cui abbiamo dovuto apportare un secondo strato che poi va a portare l'acqua fuori da questi fori che vedi qui sotto come l'abbiamo scoperto su di me ad asiago con temperature abbastanza rigide e una temporale che ho piacere a dimenticare però lì è stato veramente il test importante poi vanno anche sempre considerate le velocità quindi come lo provi sulle strade di montagna devi provare anche la pressione che fa l'aria insieme all'acqua a velocità autostradali certo e tra l'altro da lì questa è diventata la soluzione asiago chiamata no scherzo è una battuta però ecco questa è un'ottima osservazione perché ovviamente cambia il tipo di moto c'è un moto con dove siamo più esposti altrimeno e cambiano le velocità quindi mi parlavi a telecamere spente che traducendo una colonna d'acqua perché i capi il tessuto viene riconosciuto un po in base a questo quindi la colonna d'acqua che riesce a diciamo sopportare si può tradurre in una velocità e giustamente diceva può essere una velocità che arriva a 200 all'ora può essere una velocità che arriva a 400 però ovviamente a 400 all'ora sotto la pioggia è difficile andare anzi ci piacerebbe però è praticamente impossibile ecco detto questo un altro mito da sfatare è quello della completa impermeabilità perché la completa impermeabilità si avrebbe sostanzialmente con la muta da sub quella è l'unica l'unico modo per rendere completamente stagno il prodotto insomma un minimo di passaggio c'è sempre che il tessuto i fori del tessuto ci sono giusto e anche no nel senso che l'impermeabilità non esiste nel senso che ha una certa pressione di acqua a una certa forza un tessuto cioè tu hai parlato di tessuto sarebbe stato fosse più indicato una membrana che è la parte diciamo che ci protegge dall'acqua che ci che viene testata a varie colonne di pressione però anche qui non esiste la membrana definitiva perché ha una certa pressione immaginiamo quando andiamo a lavare la macchina ci dicono attenzione con la lancia non avvicinati troppo perché togli la vernice quindi immagina quella pressione lì che sono equivalenti di centinaia centinaia di chilometri all'ora su una membrana su una membrana è ovvio che l'acqua penetrerà penetrerà per rottura perché andrà a distruggere la membrana però sicuramente penetra lo stesso pensiamo sottomarino no l'esempio classico di questo è sicuramente impermeabile perché va sott'acqua fino a un certo punto perché poi la pressione data dall'acqua dalla profondità eccetera va comunque è talmente forte da distruggere anche questo è un caso estremo nei nostri casi noi andiamo a progettare tessuti e membrane che siano al contempo resistenti alle pressioni che sono normalmente ritrovabili nell'utilizzo quindi è inutile andare a creare membrane molto molto rigide molto molto complesse pesanti per superare velocità di 400 chilometri all'ora perché nella normalità questo l'esempio che hai fatto tu una persona in moto quando piove 400 all'ora non ci va e spero anche in altre situazioni al contempo servono comunque membrana in grado di assicurare in caso anche di nevischio che la cosa peggiore hai l'acqua praticamente attaccata alla giacca con la pressione dell'aria magari a 130 140 150 all'ora per chi va in germania in cui le autostrade sono libere questa tenderà a entrare quindi quei coefficienti lì noi andiamo a calcolare e a garantire che anche in quelle condizioni lì il tessuto in questo caso è la membrana o il tessuto laminato deve riuscire a resistere perfetto chiarissimo allora come si rende altra domanda super gettonata come rendo allora una giacca waterproof quali sono le siamo i sistemi trucchetti le costruzioni che ci permettono di arrivare a questo termine e maurizio essenzialmente queste che abbiamo qui dietro sono quattro esempi di materiali di soluzioni di impermeabilità partendo dalla scout che è a fianco a te quella è una giacca che ha un tessuto esterno idro repellente come abbiamo spiegato prima e al di sotto di questo c'è una membrana vera e propria che quindi è un guscio interno proprio un sacchetto di membrana interna non scendibile dall'esterno del capo che è quella che vediamo qua è dentro il materiale cioè tu devi immaginare che dentro la giacca ci sia sotto questa sotto la rete ok sotto la rete c'è un altro materiale ok qual è il favorevole di questa soluzione sono soluzioni sicuramente stagne perché c'è una giacca dentro la giacca di fatto il è molto semplice da utilizzare perché ovviamente hai uno strato singolo con la parte impermeabile poi c'è la parte staccabile ma la parte termica il contro è che ovviamente tutte le ventilazioni che tu stavi andando a mostrare lavorano sopra la membrana quindi servono sì ad evacuare il sudore servono sì a raffrescare il capo però non hai la percezione dell'aria che arriva direttamente ben diverso è una situazione in cui abbiamo una giacca laminata in cui non c'è una membrana sottostante perché è sul tessuto proprio come stavi indicando tu quindi qui si c'è la membrana e quindi la ventilazione libera la ventilazione arriva direttamente sul corpo molto più sfruttabile nei climi più caldi poi ci sono altre costruzioni qui abbiamo per dirti una outland che è un più portato fuori quest'anno e questa outland 2 qui ha un sistema a tre strati che hai la parte esterna la parte di membrana che puoi rimuovere quando fa caldo e la parte termica questo è un ottimo sistema per chi ha un'escursione termica nel suo utilizzo importante perché d'estate rimuovendo la membrana tu hai tutte le prese di ventilazioni che vanno a portarti aria all'interno del corpo sicuramente è più facile creare delle prese di ventilazioni su un capo tre strati dove non devi andare a sigillare ogni singola cucitura chiusura eccetera che su una giacca laminata in cui devi stare attenti due strati esatto in cui devi stare attento a ogni singolo punto che fai poi si può arrivare a un livello ancora più alto come la crossover che noi chiamiamo ibrida perché come nelle macchine l'ibrido è un misto di due tecnologie differenti infatti abbiamo un tessuto laminato esterno quindi tessuto 100 per cento impermeabile ma anche una membrana dentro perché perché come abbiamo detto la parte impermeabile del tessuto porterà via probabilmente l'80 per cento dell'acqua non il 100 per cento perché chiaramente può entrare dalle zip dalle cuciture la membrana sotto avrà solo il compito di portare via il 20 per cento dell'acqua che penetra e quindi avrà un 80 per cento di superficie capace di evacuare il tuo sudore quindi questa è un'ottima soluzione per chi si trova magari a viaggiare per lungo lungo tempo sotto temporali eccetera e con altri prodotti si sente bagnato quella sensazione di bagnato nel 90 per cento dei casi non è l'acqua che è entrata ma la tua sudorazione che si è bloccata perché la membrana era coperta dall'acqua che veniva dall'esterno e si dopo all'inizio non la senti subito perché evacue a 36 gradi dopo pochi minuti si raffredda e raffreddando siti da quella sensazione di oddio è passata acqua verità l'acqua è passata sì ma dal tuo corpo a poco fuori e noi adesso noi io e te che siamo più o meno in corporatura simile immagina che evacuiamo quasi mezzo litro d'acqua all'ora per questo anche stando immobili guardandoci dopo un po ci viene sete perché continuiamo a rilasciare acqua che se avessimo uno scafandolo stagno o una membrana completamente ricoperta di acqua a quel punto lì ci troveremo ad averla nella superficie nostro corpo e quindi bagnati certo chiarissimo finalmente abbiamo fatto una bella un po di chiarezza perché non è non è semplice poi capire sostanzialmente poi riassumendo un'altra domanda che mi fanno spesso quindi una giacca tre strati sostanzialmente se la smembro di tutti gli strati interni quindi tengo solo la parte esterna il tessuto esterno è un po più fresco un po più traspirabile rispetto a una giacca due strati dove tolgo l'imbottitura e quindi rimane comunque una membrana fuori sostanzialmente guarda ti ringrazio perché con questa domanda mi dai la possibilità di fare anche un altro appunto come parlavamo prima questi sono tessuti tecnici quindi alla tua risposta ti rispondo subito no è più traspirante quasi una giacca laminata e ti spiego il perché perché è vero che abbiamo detto che questi tessuti hanno un trattamento idrorepellente esterno ma c'è anche da dire che i tessuti tecnici per motociclisti hanno una spalmatura sempre comunque nella parte interna chiaramente non sarà una laminatura ma una spalmatura che serve a bloccare le trame di ordito e la trama e l'ordito proprio per evitare che a una certa pressione dell'aria o dell'acqua queste si sfaldano immagina girare con un maglione a 100 all'ora con la pioggia che cade immagina subito che queste fibre si aprono no queste tutti queste giacche qua hanno dei trattamenti questa in particolare laminata ma le altre hanno un trattamento che blocca la trama ok quindi però quel trattamento lì ovviamente è un limite non è impermeabile quindi fa comunque passare una certa dote di traspirazione ma è comunque un limite all'uscita della della traspirazione per cui i prodotti tre strati generalmente quelli di buona fattura propongono sempre nella loro versione estiva delle ventilazioni che possono essere come in questo caso almeno quattro quindi due sulle maniche due sulla parte centrale e un'uscita nella parte posteriore fino ovviamente a ben altre capacità come sono quelle della crossover o di altre giacche stive perché sostanzialmente quindi la spalmatura provo a tradurlo la spalmatura è comunque meno traspirante di un tipo di membrana come questa assolutamente la membrana è un materiale perdonami adesso vado nel tecnico quindi spero di non annoiare a nessuno poliuretanica un materiale che di suo ha delle micro particelle micro fori d'aria che da qui può uscire l'acqua ma non può penetrare l'acqua esterna quindi la pioggia che ha molecole ben più ampie e mentre una spalmatura che può essere di qualsiasi altro materiale va proprio a chiudere a chiudere questo è anche un tessuto si va a chiudere completamente il tessuto di conseguenza difficilmente arriverà a essere un materiale così prestante chiaro sono materiali che hanno costi ben diversi bello bello grande ricardo e finalmente siamo riusciti perché è l'argomento spesso mi scrivono perché c'è grandissima confusione quindi sono davvero felice che siamo riusciti a fare un po di informazione abbiamo mostrato i prodotti clover come giusto che sia ma abbiamo fatto anche dell'informazione insomma da giornalista mi piace sempre fare allora direi che è arrivato il momento del dell'ultimo cambio d'abito proviamo vediamo se viene anche questa volta ma sono sicuro che ci riusciremo pronto vai e vai ce l'abbiamo fatta anche in questo cambio d'abito allora arriva la bella stagione arrivano i primi caldi e sono sicuro che sono già lì pronti a farci una domanda ovvero ma la giacca ha tre strati posso usarla anche d'estate è fresca quanto una giacca estiva questa è una domanda altra un'altra domanda da 10 milioni di dollari allora ti rispondo per 10 milioni di dollari quindi poi quando vuoi ti do l'iban e beh una giacca tre strati sicuramente è un buon compromesso a tutto tondo perché come vediamo adesso abbiamo qui per esempio la crossover è una giacca che nel momento in cui andiamo ad aprire tutte le sue ventilazioni abbiamo un'ampia area di ventilazione che sale fino alla spalla tutta la parte centrale tutta la manica senza poi dimenticare che anche tutta la schiena può essere aperta e quindi diventare un ottimo sistema di evacuazione dell'aria però può questa competere con una giacca prettamente estiva come potrebbero essere queste due esatto questa è una difficile domanda da fare chiaramente molto ventilata da tre strati però qui abbiamo una la rete che va a comporre sicuramente buona parte del capo tutta la parte centrale la parte alta delle spalle tutta la parte centrale lì e anche ovviamente tutta la schiena in questo caso la venturing è il nostro modello principale di spicco per la stagione estiva e sicuramente offre un'ottima ventilazione ci sono giacche che magari hanno meno ventilazione trovare una risposta va sempre equiparata alle esigenze dell'utilizzatore cioè tu utilizzi la giacca perché ti sei trasferito al mare per fare quel pezzettino di strada che va dal tuo appartamento al mare chiaramente una giacca come anche quella che abbiamo qui la nuova airtec è una giacca sicuramente più adatta perché molto più leggera molto più semplice da indossare e altamente ventilata cambia completamente se tu dal mare ci vai partendo da casa nel mio caso sono poco più di 100 km di cui una parte la fai in autostrada se sei di fretta quindi le velocità salgono e può diventare problematica se parti la mattina presto anche d'estate o torni dopo una bella giornata da bronzarti che tutta la bella della pelle sensibile eccetera la sera in cui uno spiffero d'aria e subito la pelle d'oca quindi in cui prendi un'equazione anche in quel caso lì poi ovviamente allora in quel caso lì va valutato cioè è sempre valutato il caso ok devo andare in autostrada una giacca estiva di classe magari certificazione a è sufficiente oddio fa freddo la mattina vado molto forte no preferisco prendere una giacca più robusta una giacca doppia come la crossover e preferisco poi spogliarla chiaramente magari avrò un po meno di ventilazione però al contempo ho tutte le altre doti di sicurezza neanche a dire se il viaggio è un viaggio estivo che non significa uno spostamento ma un viaggio quindi magari attraversiamo gli appennini le alpi le dolomiti in cui d'estate almeno per mia esperienza arrivi a 6 gradi io mi sono trovato in una situazione a giugno di trovare la neve a 2400 metri quindi sono situazioni che possono capitare certo esposti esporsi a quelle situazioni con una giacca completamente ventilata come questa anche se siamo nel pieno del periodo estivo è un azzardo quindi io riformulerai forse la domanda in non nell'estate ma nella condizione di calore cioè cosa mi aspetto o cosa come la utilizzo questa è un'ottima osservazione un po come la che fanno anche quando ti chiedono quale casco indossare ma dipende anche da che tipo di utilizzo fai a maggior ragione una giacca che così complessa quindi sostanzialmente riassumendo bene o male tutti questi tessuti potrebbero essere equiparati però ovviamente cambia il tipo di superficie quindi qui c'è una superficie molto più ventilata quindi per forse cose passa più aria sempre paragonando comunque a un prodotto molto ventilato perché ci possono essere giacche due tre strati con poca ventilazione in quel caso lì non è assolutamente paragonabile a una giacca super ventilata quindi grande chiarezza tre strati giacca estiva possiamo quasi utilizzarle per esempio mezzogiorno sono tutte e due ventilate quasi nella stessa maniera non piove sto fresco con entrambi i prodotti dipende quello che volete ovviamente una giacca che è nata per l'estate in un certo tipo di contesto è la giacca ideale testo limitato può essere la soluzione migliore abbiamo fatto l'esempio del mare ma può essere anche uno spostamento urbano di pochi chilometri casa lavoro milano queste temperature quasi tropicali che avete in estate chiaramente una giacca completamente estiva come questa molto leggera molto facile indossare sì chiaro che cambia completamente se tu vieni da milano fuori milano quindi attraversi la pianura velocità elevata e la tangenziale allora io ti suggerirei di spostarti una giacca con coefficienti di protezione sicurezza più alto che può essere questa ma anche la stessa venturing a protezione di livello 2 inserite a differenza di altre giacche prettamente estive e quindi con questa e la capacità impermeabile che ha sempre la venturing con questa già potresti affrontare in piena in pieno comfort tutto quello che è la stagione calda a 360 gradi senza però ponerti chiaramente situazioni limite tipo che abbiamo detto il passo a 6 gradi o il trasferimento oltre altri infatti quando mi chiedono però tu cosa indossi alla fine io prediligo giacche tipo questa perché alla fine esco con ogni condizione mi sorprende la pioggia insomma la utilizzi veramente la mattina la sera con questo tipo di giacche se un po più vincolato e limitato però ecco c'è da dire un'altra cosa tre strati giacca estiva però c'è anche la due strati e a mio parere adesso vediamo se sei d'accordo riccardo invece una giacca tre strati super ventilata o una giacca sempre due strati o uno strato estiva non possono reggere il confronto di una giacca due strati dove invece la membrana è accoppiata al tessuto quindi per quanto io possa aprire o rendere accessibile all'aria la giacca comunque offre una grande resistenza all'aria giusto sì sicuramente guarda è corretto quello che hai detto lì abbiamo una giacca due strati con membrana fissa quindi a differenza dei tre strati non puoi non puoi rimuovere la parte impermeabile come avevamo sottolineato prima ci sono delle ventilazioni che sono fatte per evacuare il sudore ma non hai la percezione di aria che ti entra all'interno del capo quella è un'ottima giacca da utilizzare in autunno inverno primavera che trova il suo limite proprio nella stagione più calda a cui magari vai affiancare una airtec o altri prodotti molto ventilati è sempre la coperta la coperta corta quindi non si può esatto scelgo la soluzione che va bene un po per tutto che è il tre strati oppure mi prendo due giacche indipendenti per affrontare due momenti differenti dell'anno che però poi nel momento in cui vado nel viaggio in cui ho tutti gli elementi climatici a quel punto lì sicuramente ti serve una tre strati perché altrimenti hai veramente la coperta molto corta ti rimango fuori i piedi o le mani va bene ottimo riccardo senti allora l'ultima domanda perché siamo sempre attenti alla cura dei prodotti e quindi per forza di cosa arriva anche il momento che la giacca se la usa se non rimane nell'armadio chiusa a 15 anni come dicevamo prima arriva anche il momento di lavarla qual è il tuo consiglio soprattutto pensando a un capo tecnico come questi quindi che hanno delle membrane dei tessuti spalmati insomma bisogna un po stare attenti e anche delle protezioni come laveresti una giacca waterproof una giacca come quelle che abbiamo qua oggi allora togliendo il condizionale perché anche io lavo le mie giacche e non le cambi ogni volta no no sono agnelli comunque anch'io vado a lavare le giacche ovviamente il consiglio che do per rendere un capo sempre prestazionale è un lavaggio a mano quindi vado a prendere la giacca se è composta da più strati vado a separare gli strati la parte termica da non confondere con la membrana può andare tranquillamente in lavatrice a 30 gradi delicati o lana qual è il programma delicati e sempre una soluzione che ti mette a riparo da rischi poi la membrana invece va assolutamente sempre solo lavata a mano ok con materiali con materiali detergenti non aggressivi la parte esterna io la lavo a mano perché preferisco lavarmi da me preferisco comunque non andare a intaccare le parti che sono magari in rifrangenti che sono parti di sicurezza che potrebbero con i molti lavaggi andare a consumarsi interferire con il cestello con i vari si può esatto quello è proprio il problema cioè il cestello è un tipico caso di abrasione della giacca che continua a girare su una cosa metallica in cui tutte queste fibbie tutti questi materiali potrebbero avere un degrado più veloce rispetto a una spazzola mano eccetera poi dipende quanto spesso la vi una giacca se come me la lavi ogni mese mese e mezzo non si sporca tanto quindi in 20 minuti hai pulito giacca e pantaloni anche con una mano un altro discorso è chiaramente lasci una giacca 6 7 mesi li vedi è che sono praticamente da grigio diventa nero ma in quel caso lì si com'è fai prima a cambiarla ma a parte quello ecco io sinceramente con le mie giacche o il consiglio che do adesso vediamo se mi bacchetta consiglio di lavarle rovesciando quindi tolgo le protezioni che altra cosa che dobbiamo dire è di togliere le protezioni giusto quindi tolgo le protezioni tolgo la membrana tolgo l'imbottitura addirittura io l'imbottitura la lavo con il sacchetto quello per le tende che così rimane bene protetta e la giacca la lavo in lavatrice quando poco tempo magari se non abbiamo una vasca che la riesce a contenere tutta la rovescio e la lavo con programma delicati 30 gradi stando attenti alla centrifuga per questo è un altro argomento delicato va bene lavarla rovesciata beh è senso altro un'ottima idea cioè detta così sì con l'accortezza una volta che rovesciato le maniche di andare a a chiudere la zip centrale che sarà il contrario ma la vai a chiudere perché così vai a lavare la parte interna in cui noi studiamo e quindi vai a rimuovere lo stato di sudore che sappiamo è acido al contempo non vai ad esporre le parti le parti più sensibili più delicate come rifrangenti o come fibre metalliche al cestello della lavatrice quindi alla sua usura stando attenti ponendo 30 gradi con un programma delicato evitando la centrifuga e l'asciugatrice sì è un è un metodo che si può adottare certo se vuoi avere la tua giacca prestazionale per cinque dieci anni lavaggio a mano la sicurezza conoscendo conoscendo il tipo che lavora giorni e notte sarà lì alle tre quattro di notte lavarsi la giacca però questa è un osservazione giusta che in effetti la lavavo rovesciata ma non chiudevo la cerniera ecco poi l'altra cosa che faccio che non dovete fare usare gli ammorbidenti io li uso che mi piace il profumo anche all'interno del casco lo so che non andrebbe fatto quindi vabbè in quel caso sbaglio però ecco questa è sicuramente un'osservazione corretta quindi abbiamo concluso insomma è stata lunga però sono davvero contento che come dicevamo prima abbiamo fatto finalmente dell'informazione non abbiamo solo mostrato i capi raccontato la gamma che comunque complessa se volete andare a vedere la gamma andate su clover giusto clover.it www.clover.it ok perfetto trovate le informazioni ovviamente seguite i loro canali social che sono sempre molto ricchi tra l'altro hanno nuove figure che li gestiscono bravi appassionati insomma cosa chiedere di meglio se avete poi delle domande gli scrivete sono molto attenti andate anche a trovarli perché adesso mi ha anticipato telecamere spente che hanno aperto anche un barettino dove ci sono dei prodotti non andrebbe detto non lo so perché dopo si arriva troppa gente ma io lo dico insomma saranno contenti perché a parte gli scherzi sono appassionati e gli piace condividere le emozioni e quello che hanno accumulato i tanti anni di conoscenza quindi andate lì a trovare io vi aspetto qua sempre nella redazione di moto.it grazie a riccardo per essere venuto qua con tutta la gamma anzi con parte della gamma clover tutta non ci sarebbe stata nella stanza però grazie a te maurizio invece per averci ospitato per averci dato veramente modo di esprimere tutto quello che c'è dietro questo mondo di cui noi siamo stra appassionati e a volte sai è difficile poi trasmettere il lavoro e la la passione che ci mettiamo nel selezionare tutti questi elementi grandi quindi allora se volete avete bisogno di fare delle domande moto.it maurizio vettor power clover punto it insomma un modo lo trovate per contattarci e mi raccomando capi certificati ben allacciati e paraschiena sempre ragazzi sempre ok sempre